Con Santaniello della Turris, un commento su questo rinvio, il campo era impraticabile? Io penso che già dall'inizio della gara si vedeva che non c'erano le condizioni per giocare, anche perché la neve ha aumentato di intensità e in campo comunque c'è anche il rischio che poi qualcuno si può fare male, quindi forse è stata la soluzione migliore. A fine primo tempo l'arbitro vi ha preso a colloquio, cosa vi siete detti sostanzialmente? Perché poi abbiamo anche visto la prova che avete fatto con i due capitani. A inizio secondo tempo stavamo aspettando che ritracciassero le linee, però poi con i tempi d'attesa del ritracciamento la neve continuava a scendere copiosa, quindi penso hanno fatto la scelta migliore, perché comunque a terra la neve era molto alta, quindi penso non sarebbe stato possibile continuare. Allora il Campobasso ha protestato per un fuorigioco di Leonetti sul gol, tu che cosa hai visto che credo fossi davvero a pochi metri dall'accaduto? Ma dal campo è difficile vedere bene poi se c'era fuorigioco o meno. Anche noi abbiamo protestato per il rigole che forse è stato preso dietro alla nuca, ma l'albero forse è stato ingannato perché il mio compagno è andato con le mani un po' più larghe. Sono situazioni di gioco difficili da vedere lì al momento, forse a mente fredda guardando il video uno può farsi un'idea migliore. È stata una partita nonostante il terreno di gioco e la neve molto combattuta. Sì, siamo state entrambe le squadre che avevamo voglia di affrontarci a viso aperto, poi un po' per la neve, un po' per il freddo era un po' più difficile provare ad essere più tecnici, però magari la prossima volta quando ci sarà il secondo tempo metteremo in campo un po' di tecnica in più. Allora noi ti ringraziamo, diciamo che a Torre del Greco la neve è un po' un oggetto sconosciuto, giusto? Sì, sì. Tu sei di Torre del Greco? Sì, sono di Napoli. No, la neve dalle parti nostre è difficile che arrivi.